Gestivano un ambulatorio odontoiatrico in provincia di Pescara ma nessuno di loro era dentista. I carabinieri del NAS di Pescara in collaborazione con i militari di Penne hanno smascherato e denunciato i due professionisti titolari dell'ambulatorio, anche sto posto sotto sequestro assieme alle attrezzature per un valore di circa 2 milioni di euro. Le indagini del NAS infatti hanno permesso di identificare due falsi dentisti che in assenza di qualsiasi titolo accademico effettuavano pratiche odontoiatriche sui pazienti. Al termine dell'attività entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Ma i NAS hanno portato avanti un'analoga operazione anche in provincia di Teramo. I militari hanno individuato un ambulatorio odontoiatrico completamente abusivo. All'interno di un appartamento non c'erano i necessari requisiti igienico-sanitari e strutturali. I tubi idraulici delle apparecchiature erano stesi pericolosamente sul pavimento collegati alla rete idrica e fognaria domestica mentre il compressore dell'aria era installato nel servizio igienico. L'intero immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e il proprietario, l'odontoiatra che operava nello studio, è stato denunciato alla procura della Repubblica.